Uno per tre è tutto il runner per me, insieme noi usciamo sempre dai qua. Vostra infantilità ci hanno appena informato che secondo le regole da noi scritte, qualora il runner fosse giunto a est, sarebbe immediatamente dovuto uscire dal gioco micida. Non solo non è uscito, ma ci risulta che il runner sia rimasto a est per più di tre mesi e che lei abbia corrotto chiunque affinché da est fosse rimandato a ovest. Ed ora staremmo facendo di tutto perché da ovest ritorni a est. No, il runner non esce, il runner è mio, è tutto mio e non appena impazzisce mi fa il bagnetto. Adesso voglio uccidere un muso giallo, dov'è il tasto per uccidere i musi gialli? Uno per tre è tutto il runner per me, insieme noi usciamo sempre dai qua. Ciao!